Ancora un arresto per spaccio nel quartiere di Saione, questa volta a finire in manetta è stato un 29enne, residente a Foiano e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato sorpreso all'interno del parco del Colle del Pionta dai carabinieri della Compagnia di Arezzo nel corso di uno specifico e mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nei parchi cittadini con un panetto da 40 grammi di hashish nascosto all'interno del marzupio. L'uomo alla vista dei militari del nucleo operativo e radiomobile ha tentato di disfarsi dello stupefacente ma è stato immediatamente sottoposto a controllo e perquisizione. È stata così ritrovata altra sostanza stupefacente, eroina ed hashish già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.